Il bello e il cattivo tempo, torniamo di nuovo al Tirso de Molina e abbiamo il cast al completo di Come eravamo. E quale migliore occasione se non lasciare il microfono in mano all'autore, regista e anche interprete, Francesco Bellomo. Sì, purtano perché questo prende anche le mosche che volano, giuro. Le mosche, allora posso cavalcarne una. Manca semplicemente l'ideazione della scena e dei costumi e poi faccio tutto, visto che successivamente li lavo. Allora, Come eravamo? Un tuffo nel passato, nei meravigliosi anni Ottanta, all'interno di una storia d'amore possibile e una storia d'amore impossibile. La storia d'amore possibile sarebbe quella tra loro due, fra Sonia, che è una giovane siciliana, operaia del cotonificio, che si sta per sposare con il proprietario del cotonificio, che sarei io, e come sempre accade nelle situazioni in cui c'è una piccola differenza d'età, appena 30 anni, uno fa di tutto per soddisfare la propria compagna. Però, siccome in questo caso si tratta di tutto di affetto, stima, riconoscenza, quando poi improvvisamente in questo menage apparentemente tranquillo c'è la variabile che in qualche modo interviene, e in questo caso Andre Vegas che Giulio Corso, tutti gli equilibri si fanno a fare benedire. Per cui ci sarà una serie di situazioni, di passioni che esplodono, di passioni che implodono, di tristezza, di gioia, di allegria, con un finale a sorpresa. Il tutto all'interno di un teatro particolare, che verrà distrutto successivamente per farne un parcheggio, ma 30 anni dopo sapremo quello che accadrà. Giulio Corso. Buonasera. Infatti, perché dobbiamo venire a vedervi a teatro a questo punto? Lasciamo ai protagonisti la parola. Ma questa è una domanda grande, no? Perché uno dovrebbe andare a teatro? Cioè, perché? Perché il teatro ha tutta una sua valenza. Perché venire a vedere questo spettacolo? Secondo me, Come eravamo, è una commedia divertente che ha un sapore anni Ottanta, perché è un momento storico in cui avviene la nostra, la pre-storia. Arriva un custode che ci inizia a questo mondo, sulle note di Semilasci non vale, e poi veniamo catapultati all'interno di questo cinemateatro negli anni Ottanti, i favolosi anni Ottanta, e così è in questo il clima in cui vive la nostra storia. Quindi secondo me, innanzitutto, bisognerebbe venire a vedere questo spettacolo perché per risentire un attimo come eravamo e come siamo. E come eravamo è inevitabile, no? Cioè, come siamo è inevitabile essere come si era. Quindi questo è un po' il punto della nostra storia. Che nella storia accada sempre qualcosa e che anni dopo i personaggi si rincontrino e si ritrovino come erano o come sono. Ah, bu? Alessandra. Questo non lo sappiamo, dovete venire a vedere lo spettacolo per capire come sono diventati. Sempre la stessa domanda, perché venire a vedere lo spettacolo? Perché sicuramente è uno spettacolo divertente, abbiamo una commedia musicale, quindi si ballerà, si canterà. I personaggi, i miei compagni, sono super divertenti e quindi non potete perdervi. E poi per le stesse motivazioni. Si ritorna un po' nel passato, quindi sicuramente sarà bello tornare in quell'armonia che c'era, che è totalmente diversa da quella attuale, per tantissime motivazioni. E soprattutto devo dire perché è uno spettacolo fresco e giovane, ora a prescindere dalla presenza di Francesco, però insomma il cast è piuttosto... C'è anche Luigi Tani, che rinfresca la situazione. Che rinfresca la situazione. Vogliamo presentare il resto del cast e poi invitiamo gli amici. Allora, Ilenia Tocco, Leonora Bruno, Federica Pinto, Marco Paolo Tucci e il giovane Luigi Tani, che fa il custode di queste macerie, che non sono solo le macerie dei muri, ma anche degli amuri, delle storie, che avvengono qua dentro. Bene, allora, l'invito è solamente a venire al Teatro di Tosso De Molina dal 7 al 18. Volevo chiudere con una citazione monicelliana. Il personaggio di Augusto è ispirato a, in qualche modo, Mario Monicelli, perché c'è una battuta che troveremo, che Mario Monicelli una volta che stava con una donna molto più giovane disse il momento in cui la differenza di età diventerà più evidente io me ne andrò e lascerò fare la propria vita. Ed è quello che vorrebbe fare Augusto in qualche modo con Sonia. Quindi anche Mario Monicelli abbiamo citato. E quindi, come eravamo, Teatro Tirso De Molina, dal 7 al 18 dicembre, poi andate a fare le vacanze di Natale dove volete. Però prima passate da qua. Assolutamente. Ciao. 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 Grazie a tutti